Bene ragazzi, sono BenWolf e siamo tornati a prendere schiaffi, o almeno spero di no, su Crash Royale. Nel video precedente abbiamo fatto una piccola modifica al deck, abbiamo messo un cavaliere per difenderci meglio dalla strega che in questo momento sta dominando i campi di battaglia. Andiamo a vedere invece come ci comportiamo in questo video. Qui rimette subito un... eh mamma mia! Qua ragazzi ci sta arrivando una cattiveria pazzesca, eh! Anche la furia? Sputami in un occhio già che ci sei ragazzi, guardate che attacco che ha fatto questo. Ha fatto un attacco bellissimo che non potremo mai, ma mai nella vita restituirgli. Facciamo così. Vediamo un po' di invertire un attimino l'attacco. Lui ha usato già un draghetto, eh mamma mia, a saperlo prima. Qui posso soltanto usare una scossa giusto per fargli perdere un po' di tempo. Niente di che, ragazzi. Però guardate un po' la mia tattica come è stata buona. Grazie alla mia mossa siamo riusciti a riprenderci completamente da una situazione di svantaggio assoluto che stavamo vivendo. Non è andata male, dai. Cerchiamo di tenere impegnato su fronte di sinistra. Per fortuna la torre ha grato il cavaliere, non so come, perché quegli sgherri erano molto più veloci di lui. Lui sta accumulando un sacco di risir, sicuramente vuole riproporci l'attacco di prima e noi non vogliamo farglielo fare. Quindi direi di usare soltanto carte che possiamo mandare, diciamo, in attacco senza aver bisogno di difenderci. Quindi usiamo minatore, usiamo gli arcieri. Lui ha smesso completamente di giocare, ragazzi. Non ho capito se ci è rimasto male per quell'attacco, cosa che è possibile, oppure se semplicemente sta avendo dei problemi. Io, nel dubbio, continuo ad attaccarlo, visto che ci fa questo regalo immenso. Lo ringrazio anche. Seconda torre fatta. Perfetto, ragazzi. A questo punto direi di mandare un po' tutto quello che abbiamo. Attenzione, è tornata a giocare, ragazzo. E allora non l'ho capito mica bene. Problemi di connessione non mi sembra che ne abbia avuto, ma mai nella vita, perché altrimenti l'avrebbe... Mamma mia che ci sta arrivando. Qui, ragazzi. Lapide? Lapide? Brava, Lapide. Ci sei piaciuta un sacco. Lui per futuro ha mandato una palla di fuoco cattivissima, ma l'ha mandata, credo, nel momento sbagliato. E qui preferisco prendermi un po' di schiaffi, mandiamo un cavaliere difensivo, grazie. Vediamo un po' qui come ci comportiamo. Mandiamo anche degli arcieri, giusto giusto in tempo, direi. Allora, ragazzi. Qui la situazione è un po' strana, eh. Per cui ha giocato in maniera da boh. In maniera boh ha giocato. Mandiamo un cavaliere difensivissimo. Manderei un minatore, ma anche no. Ma anche no. Barbari scelti. E quando è che ce li avevi intenzione di farmi rivedere quelli? Ragazzi, è stata una vittoria strana. Sembrava che si caricasse all'infinito di Elisir, eppure non giocava. John Sena. Uh, guarda un po' cosa abbiamo qui. Un amichetto con cui giocare. Ciao, Baule Magico. Vieni da papà. Questo ci piace un sacco, ragazzi. Andiamo a fare un'altra battaglia. Sto Baule Magico in diretta è stato veramente al bacio. Siamo conto? Javi Rillo 2005. Che sembrava essere spagnolo, invece mi sembra un super megafanta coreano. Come lo attacchiamo? Facciamo così. Non facciamo più così. Volevo assolutamente mandare i miei scheletri. Ma a questo punto direi di non farlo. Perché ci serve assolutamente l'orda di scheletri contro questo gigante. Il mio problema è che non so lui che carte c'ha. Ecco che carte c'ha. Però io posso parare la sua mossa in questo modo. Sicuramente quegli scheletri mi daranno una mano. Non mi possono sopravvivere mai nella vita a questo attacco. Perché era impossibile, ragazzi. Poi posso mandare un cavaliere a prendersi un po' di danno. E mamma mia che cosa c'hai tu? Perché sto trovando tutta quanta questa gente pienissima di cattiveria. E che? Ma tornate indietro, sgherri! Ma guarda di te. Hanno fatto un percorso tutto quanto strano. Non mandiamo un minatore? No, non lo mandiamo. E abbiamo fatto bene. Perché lì c'è quel moschettiere di livello 5 che vi lascio immaginare le risate che si faceva contro un minatore di livello 1. Allora direi. Pronti con il gigante royal che fa massa? Sostanzialmente. Lapide per attirare il gigante avversario. Non abbiamo mai nella vita una zap. E questo è un problema, ragazzi. Immenso. Inutile dirvi che adesso quella torre ci fa ciao ciao con una manina incredibile. Anche la scossa a te sei veramente un maledetto. Ma andiamo degli sgherri. Questa partita è tosta, ragazzi. Perché nonostante il gigante non ad altissimo livello, perché non è a un livello alto, ci sta comunque mettendo un sacco in difficoltà. Minatore, gentilmente no, eh. Non mi attrarre mai il fuoco completo di quella torre. Va bene così, ragazzi. Comunque un po' di danno gliel'abbiamo fatto. E adesso gli raccontiamo una bella bazelletta. Perché noi come ci difendiamo? Non ci difendiamo. È semplice. Noi ricordiamoci che c'ha quella scossa. Eh, mamma mia. Che cosa sei tu, però? Allora, io direi di mandare degli sgherri qui. Quel cavaliere per fortuna ci sta tangando benissimo, benissimo, gli avversari. Qui siamo stati veramente costretti a mandarlo, perché altrimenti come potevamo mai cavarcela nella vita. Gli sgherri si stanno occupando anche di quella valkyria e a noi va benissimo così. Manderei un cavaliere su questo moschettiere, ma sono stato lento, ragazzi. Gigante Royale. Niente, oggi riesco a essere di una mentezza incredibile. Devo mandare anche degli sgherri, perché ho bisogno che quella torre mi vada giù. Qua mandiamo un'orda di scheletri cattivissima. Qui possiamo mandare una... Eh, mamma mia, della cattiveria. Però non mi è piaciuta la sua mossa, eh. Io manderei un cavaliere degli arcieri. Lui ha appena usato la cimitero, non puoi avere di nuovo una cimitero, dai. Non farmi didere. Ok, ragazzi. Quegli aceri stanno menando di brutto quel moschettiere. E a noi ci piace tantissimo. Va bene così. Mandiamo adesso gli scheletri. Mandate i suoi scheletri. Noi possiamo fare di questo. Non possiamo fare diversamente, purtroppo. Gli scheletri buoni. Stanno picchiando gli scheletri cattivi. E anche la valkyria. Minatore instant. Eh, mamma mia, quel drago. Eh, vabbè, mandiamo un cavaliere a tankarcelo. Va. Nel frattempo la torre lo mena. E noi siamo soddisfatti in questo modo. Lì ci sta arrivando la solita merda. Le manderei un gigante royal difensivo. Degli arcieri. 13 secondi. Io qua bloccherei tutto. Qua metterei una lapide perché quel gigante non mi deve andare in hit mai nella vita. Horda di scheletri stra difensiva. Io direi che ci siamo portati a casa un ottimo pareggio. Nonostante il ragazzo fosse di livello 7 come noi, eh. Ha giocato benissimo. Andiamo a vedere un po' che deck aveva. E vedete, ragazzi. Altro che. Ha giocato un più che bene. Perché aveva le rare al 5 e al 4. Nei normali al 6. Le epiche al 3. A parte le epiche, eravamo veramente dello stesso livello, eh. Comunque, proseguiamo nel nostro avanzare. Siamo contro un mazza. Anche questo è di livello 7. Ragazzi, facciamo attenzione. Perché ultimamente stiamo trovando dei livelli 7 con il coltello fra i denti. Mandiamo gli sgherri insieme al nostro povero gigante royal. Attenzione, attenzione. Di là abbiamo Sua Mestà, Mr. Pecca. Ricordiamo che adesso ha un tempo di schieramento ridotto, ragazzi. Adesso viene schierato con un secondo solo di tempo di ploi. Qui siamo fortunati che lui ha già usato, eh, mamma mia. Minatore, per fortuna, attira quel drago. Grazie. Grazie, Minatore. Gentilissimo. Ci stai facendo un favore che tu non ne hai idea. Canti saranno cantati in tuo nome, in tua gloria eterna. Grazie. Perfetto, ragazzi. Ci siamo difesi magnificamente. Mandiamo una lapide. Se gentilmente tu cambi... No, ragazzi. Questo non l'ho capita. Vi giuro, non la riesco a capire. Quel maledetto cavalca cinghiale aveva cambiato direzione, andava probabilmente verso la lapide e poi ci ha ripensato. Se c'è stato qualche aggiornamento strano di cui non sono a conoscenza, e anche questo è strano, fatemelo sapere perché, credetemi, continuo a non capire. Boh. Va bene così, ragazzi. Che devo dirvi. Qui ricordiamo che lui può caricare l'elisir per mandare il simpaticissimo Pecca. E a questo punto farei una cosa un po' diversa. Cioè cercherei di non dargli supporto. E come faccio a non dargli supporto, ragazzi? Guardate lui come ha giocato bene. E a questo punto direi di mandargli un bel cavaliere degli arcieri. Lui ha mandato un mago di una cattiveria più unica che rara. Inutile dirvi la fine che farà quel povero cavaliere. Qui per fortuna abbiamo quegli arcieri cattivissimi. Dategli qualche frecciata. Attenzione, ragazzi. In tempo, in tempo. Che bella difesa, ragazzi. Qui la scossa non è servita a eliminarli perché, evidentemente, sono almeno di pari livello. Sottolineo almeno di pari livello. La scossa lui è bravo perché ci sta costringendo a giocarla dove non vogliamo. Questo punto direi avrà sicuramente i nuovi scheletri. Noi lo sappiamo benissimo. Manda un bellissimo, bellissimo draghetto difensivo. Perché quello è stato veramente buono, ragazzi. Mandiamo il solito minatore. Mandiamo lui. Mandiamo l'orda di scheletri a metà strada perché purtroppo devono difenderci tantissimo. Va bene così, ragazzi. Va bene così. Ah, purtroppo il draghetto mi ha aggrato quello che non mi doveva aggrare. E pazienza. Preferisco prendermi gli schiaffi di questa torre e a questo punto fargli un attacco un po' strano. Eh, va bene così, va bene così. A noi non ci interessa quello, eh. A noi ci interessa in questo momento menare la sua torre principale. Vediamo un po' come ci comportiamo. Lì, inutile dirvi che ci sta arrivando il male incarnato. Facciamogli perdere un po' di tempo facendo di questo, di questo, di questo. Ragazzi, qui. Non è che sono dolori di più. Non penso di aver mai affrontato due pecca nella mia carriera di giocatore. Li attiriamo lontani, per favore. Grazie, gentilissimi. Apprezziamo molto. Apprezziamo moltissimo. Ragazzi, ah, due maghi, due pecca. Io non so veramente cosa fare per difendermi adesso. Che devo fare, ragazzi? Boh, ditemelo voi. Io non so veramente come. Cioè, come mi posso difendere? Ragazzi, perché quando ridono poi io li sto già mutando? È stato sicuramente bravo, eh. Ma come potevo difendermi mai? Fammi vedere che deck c'aveva. Il deck era normale. È, ha dei tuoi leppi che tra l'1 e il 3, magari il 5. È stato semplicemente bravo. Ho sbagliato io di sicuro. Apriamoci il baure della corona, visto che possiamo. 460 di oro. Due gemme. Gigante, ci piace. Ragazzi, gli arcieri che ci servivano. Fantastico. Un sacco di mini pecca. E per finire, un sacchissimo di scariche. Questo baure qua ci è piaciuto un sacco, ragazzi. Portiamoci subito gli arcieri a livello 8, che abbiamo bisogno di tirarli un po' su di livello. Perfetto. E direi che per questo video è tutto. Se vi è piaciuto, lasciate un like, commentate, condividete e mi raccomando, iscrivetevi per vedere video nuovi tutti i giorni. Grazie e alla prossima. Ciao.